Quindi la prima cosa da fare è un'analisi sincera. Che cosa intendo io con un'analisi sincera? Intendo dire che bisogna innanzitutto capire qual è il mercato, capire quello che vogliamo fare noi nella nostra vita. Quindi se non facciamo un'analisi equa di quello che noi vogliamo fare, di quello che noi vogliamo ottenere, sicuramente non riusciamo poi dopo a capire come muoverci. Rischiamo di passare tanto tempo nel cercare di arrivare da qualche parte e poi dopo non ci arriviamo. Oppure ci arriviamo con molta più fatica rispetto ad altri. Bisogna innanzitutto cercare di capire il mercato. Per capire il mercato bisogna analizzarlo. Analizzarlo vuol dire che bisogna passare del tempo non tanto a guardarsi intorno e dire ah, quella potrebbe essere una idea interessante, potrebbe essere qualcosa che può assolutamente cambiare la vita delle persone. Non è che dall'oggi a domani uno si alza e inventa un social network e il giorno dopo diventa miliardario. Non è che uno facendo un video tutorial o un video lo mette su YouTube o su un altro sistema di produzione video, ma diciamo YouTube perché c'è una grandissima ignoranza, se mi passate il termine, sulla parola di YouTube, sulla monetizzazione di YouTube. Le persone credono che quando uno mette un video su YouTube con la pubblicità e fa lo YouTuber, questa professione che non è una professione, è un gioco a mio parere, diventa miliardario in pochissimo tempo. Non è che mettendo i miei video online, mettendo la possibilità di avere la pubblicità, i miei video mi riempiono di soldi, ok? Non è assolutamente vero. È già tanto se con le entrate di YouTube, che comunque non sono poche a livello di visualizzazioni, riesco a pagarci una pizza a fine anno, ok? Quindi non è che facendo un qualcosa del genere, il giorno dopo si diventa miliardario. Bisogna assolutamente, a mio parere, fare un'analisi, un'analisi di mercato. Questa analisi di mercato si può fare in tanti modi. Abbiamo degli strumenti che sono potentissimi oggi, che uno di questi appunto è Internet, è Google, che ci permette di capire, innanzitutto, in base a dove siamo noi, quali sono le professioni che stanno andando in quel determinato momento, le tendenze che stanno andando in quel determinato momento, e soprattutto capire anche quello che si potrà fare un domani. Facciamo un esempio pratico dell'oggi. Oggi si parla tantissimo di virtual reality e di augmented reality, ok? Io non lo so se la virtual reality o l'augmented reality siano il nuovo settore del domani. Si parla di questi strumenti come degli strumenti per poterli anche inserire all'interno dei film. C'è la ILM che ha aperto uno studio di ricerca basato esclusivamente su come poter fare la realtà aumentata, comunque la virtual reality, che sono due cose diverse, augmented reality e virtual reality, all'interno dei film. Stanno studiando, però secondo me non è il domani, non è quello che domani avremo, sarà quel settore lì. Sicuramente oggi è un momento buono perché è diventato più accessibile, è diventato più accessibile a tutti la possibilità di poter programmare e iniziare a studiare tali argomentazioni, ok? Ci sono per esempio i due, diciamo, software per eccellenza che sono United 3D e Unreal, però mi ricordo che c'è anche quello della Crytek e quindi ci sono due cose totalmente, tre diciamo software, però due sono quelli che vanno per la maggiore, che uno si può studiare per prepararsi per il domani. E in più ora abbiamo la possibilità con i Carbor, invece di poter, di dover andare a prendere per esempio l'Hololens, che tra l'altro in Italia non arriva, non è venduto, è venduto solo se lo compri tramite altri rivenditori esteri, sono dei tools, per esempio l'Hololens costa 3.000 dollari, mi sembra, quando l'abbiamo comprato con lo studio, dove ero nello studio, avevamo pagato una cifra allucinante. Mentre gli Oculus, per esempio, mi sembra che stiano sui 500 euro, quindi diciamo che c'è un mercato un po' diverso, che è un po' chiuso per certe strumentazioni, mentre per altre un cellulare, perché tutti ormai abbiamo un cellulare, sono molto più accessibili rispetto al passato, rispetto a prima. Quindi uno volendo può accedere a tali informazioni, tali strumenti e studiare tale settore, perché magari è il settore che sta iniziando ad andare adesso. Qualche anno fa c'è stato il boom della stampa 3D e tutti le volevano fare stampa 3D. Qualche anno fa sono caduti praticamente i brevetti per le stampanti 3D e quindi tutti potevano iniziare a crearsi la propria stampante, tutte le varie marker bot, o per citare un brand che conosco, ma ce ne sono anche tanti altri, hanno iniziato sostanzialmente a crearsi questi stampanti 3D con dei costi comunque relativamente alti rispetto a... le stampanti professionali hanno dei costi dieci volte inferiori, però tutti volevano fare stampa 3D. Ma non è che dall'oggi a domani uno compra e immediatamente fa stampa 3D. Questo è evidente, è evidente anche perché quando si entra nel mondo del 3D si sa benissimo che non esiste il bottone magico. E questo vale per tutti i settori, vale anche per chi vuole fare il fotografo ad esempio. Non è che adesso, siccome le reflex digitali hanno dei prezzi accessibili, o abbiamo tutti un cellulare con i famosi 2, 3, 7, 20 milioni di megapixel nella fotocamera, possiamo pensare di fare i fotografi e metterci magari la nostra bella fotografia su Instagram e allora siamo dei fotografi. Non esiste, non è assolutamente vero e non è assolutamente possibile pensarla in questo modo. Quindi bisogna fare un'analisi, bisogna fare un'analisi cercando di capire qual è innanzitutto il mercato emergente e qual è magari anche il mercato che c'è nella vostra area. Se puntiamo su un mercato emergente, dobbiamo allora andare a studiarci poi dopo quelle che sono, sono quelle tecnologie, quelle che sono quelle aree di interesse che praticamente ci possono riempire, ci possono comunque colmare le nostre lacune e ci possono permettere di crescere come professionisti su quel settore lì. Se invece vogliamo puntare alla zona, quindi a capire qual è la nostra zona di accesso e capire un po' anche quali sono i vari mercati con i quali possiamo confrontarci e come in cui possiamo iniziare a lavorare, dobbiamo fare appunto una ricerca online. Facendo una ricerca online possono uscire fuori tante cose. Per esempio, se io voglio lavorare nel mondo architettonico, e cosa devo fare? Dovrò cercare un macellaio o dovrò cercare degli studi di architettura? Dovrò cercare degli studi di architettura e dovrò cercare di capire anche come questi studi di architettura hanno impostato la loro pipeline produttiva. Questo è molto importante. È molto importante perché io non voglio parlare male dei software, però se io sono in un luogo, in una città, potrebbe essere Firenze, a Firenze ci sono 50, dico dei numeri al caso, 50 studi di architettura. Mettiamo caso che di questi studi di architettura tutti utilizzano un software per disegnare in 2D, per esempio Autodesk, AutoCAD, scusate, dell'Autodesk, e poi utilizzano Cinema 4D per renderizzare. Ok? Oppure alcuni utilizzano 3DX Max. Quindi è inutile che io mi impunti sull'idea di voler utilizzare per esempio Maya o per esempio Blender o per esempio Wings o un altro software super 3D che mi fa i render, perché non avrò il mercato. Voi mi potreste anche dire, è logico, io devo prendere, non è vero questo, io mi basta prendere il materiale che mi danno e poi gli posso produrre l'immagine. Certo, questo può andare bene se ovviamente siete dei professionisti avviati, se ovviamente avete una vostra struttura e già vi conoscono. Quindi siamo già a un passaggio oltre, noi siamo in un passaggio prima ancora, ancora non abbiamo la nostra struttura, ancora non abbiamo nulla, ma dobbiamo capire come iniziare il nostro percorso. Quindi io facendo un'analisi un po' del luogo posso capire come sono fatte le pipeline e su quali software devo iniziare magari a studiare. Ovviamente se capisco questa cosa qui posso capire come si deve muovere il mercato, come mi devo muovere io nel mercato. Grazie a tutti.